Scusate, che c'è? Che state facendo? Non toccare. No, 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 non volevo toccare. C'è il DDT qui, hai capito? Il DDT. DDT, ti vedi di toccare, compa. Io, no, non volevo toccare. La volevi baciare? D'accordo, chiedo scusa. Tu metti la mano qui e toccala, perché io sto là e aspetto tutto il giorno che una guagliongello con Mattea allunghi le mani per allissare con le sue unghiette smaltate, tutti i reperti esposti. Mi dispiace tanto, credevo che fossimo in un paese libero, quindi... No, invece no. Ah no? Siamo negli Stati Uniti e attenti che non si tocchi niente, o di meno. Io vorrei solo, posso guardarla da qui, no? Non faccio niente. E vediamo come finisci se la tocchi. Ah, mi stai minacciando. Mi stai minacciando, Brandon? Mi chiamo Brandon. Scusami? Sono di Napoli. Brandon. Bravo, Brandon. Brandon, certo, un guardiano napoletano che si chiama Brandon, bizzarro. Tengo il nome d'arte, siamo in un paese libero, mica vi è dato tenere il nome d'arte. Ma che strano trovare un guardiano con un nome d'arte, Brandon. Tengo il nome d'arte come Madonna. Madonna? Ok. Hai mai sentito questo nome prima? Brandon? No. Madonna, Madonna la subretta, è famosa assai. Eppure Brandon. È chiaro, ma mi stai minacciando, Brandon? E non lo so, femminiello, ti minaccio. Oh, guarda, una torcia da nove volt. Già. Magnifico pezzo di equipaggiamento. È bella, è una luna di nove. Sì, è bella, splendida. Personalmente preferisco la mia torcia fosforescente, ma sai, è la mia. Fammi un piacere. Quale? Tiene manorina a sacchi, capite? E soprattutto, abbassa la cresta e vedi di essere gentile con Brandon. Certo. Ma posso chiederti una cosa? Che vuoi? Ok, tanto per essere chiari, questo non si può fare, giusto? Allora sei proprio scema. I tacciti veramente. Che dici? Tanto che capite che tu non puoi più campare. Molto scassabile. Ah, ora mi minacci, lui. Credo di sì. Non toccare. Tu non toccare me. Tu non toccare. Non toccare me. E tu non toccare me. Io ti tocco con la torcia quando voglio. No, no, con la torcia devi illuminare. Io te l'avevo detto. Non toccare o te spacca la capa. Da quando ti ho visto mi sei stato in goppe e palle e non mi sbagliavo. Non fare così. Non fare che? Non fare così. Vediamo che mi fai se ci riprovo. Vuoi vedere? Io li conosco, quelli con Mattè. Scommetto che non mi fai niente se ti tocco. Sul serio, Brandon. Vedi tu... Brandon. Brandon. Vedi, tu non sai chi sono io. Pensi di sapere come si fa il guardiano? Eh? Credimi, non sai proprio che vuol dire. Ho visto cose che tu non puoi neanche immaginare. Che genere di cose. Non ti dirò niente. Ma ora tu mi lascerai la torcia. Perché da come l'avevi detto sembravano cose belle assai. Sì, ma non ti dirò niente. Molla la torcia. Fico? Devo ammettere che sei fico. Sei come Maradona. Grazie. Senza raccordi? Pace? Certo. Scusa, eh. Scusami, Dan. No, 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 è colpa mia. Non dovevo toccare. No, ci siamo scontrati. Un confronto di idee. Ti facevi il tuo lavoro, Brandon. D'accordo? Sei forte? Ciao. Sì, ciao. Stavolta ha vinto lui. Ma è solo il primo tempo. E Davoli nella ripresa vince sempre. Certo, è Maradona della Pila. Ma con un po' di allenamento... Certo, è un po' di allenamento. Certo, è un po' di allenamento. Certo, è un po' di allenamento. Grazie.